bomba di questo verissimo video allora ragazzi siamo arrivati a 55 iscritti per la precisione cioè oddio molto poco più o meno qualche settimana qualche settimana diciamo cioè un po' però sono tipo troppi cioè pensare che io penso ogni volta che faccio questo c'è davanti al computer vado faccio premo e vedo ogni tanto per mia mia prima erano 16 20 23 sui 30 34 arriviamo a 40 poi cominciamo a salire poi abbiamo sceso poi sono salita un'altra volta però dettagli poi i video piacciono come cash royale comunque grazie e niente ciao con il video ciao a tutti allora sono è benvenuti al duecentimo video perchè oggi siamo qui tornati è archi che è un gioco idiota ah ho 34 anni si allora possiamo pensare a sodin facciamo sodin Il suo passaggio è di nanzi, certo. Il suo personaggio ha avuto dei figli? No, non no. Il suo personaggio è belga? Non lo so. Non credo, però. Ma è di Roma, non fa parte dei Mids, no. Tiene in mandia? No, non ha un diario. È famoso? No, quello è Alperic. Ha a che fare con Fabi J? No. È famoso grazie? No, non porta proprio Minecraft. Gira i video su FIFA, eccola. È di Roma, sì? Un fratello, sì? Zoda? È grasso? No. Compone musica? Ah, è uno youtuber ma compone musica? Sì, guarda. No. Il suo personaggio sa usare il Dragon Crash. No, ma non so molto che. Abbraccia le gambe? No, guarda. È nato con una malattia che non ha negato. Come gioca a FIFA? Con la bocca? Il suo personaggio ha a che fare con Sodin? No, è Sodin. No, ma è Sodin. Ha giocato nella Provercelli? No. Ha giocato per... No! Ha mai... Cioè, il suo personaggio ha mai avuto una storia con lei? Chi lei? Il suo personaggio fa scherzi a Kirino Ranmaru. Ma non so manco chi è. Fa pa... No. È fidanzato, sì? Ha un fratello famoso. Zoda, ma non so se è famoso. Vabbè. Chi è? Continua. Adesso pensiamo a... Ron. Non lo so quando è nato, amico. Nel suo piano è girato a video con il vostro caro Dexter. Chi? Ron? No. C'era almeno, oddio. Non credo. No, no. Ha un cane? No. Quello è gabbo. Lei è il suo personaggio. Avete entrambi i genitori? Ma che cosa? No. Lavoro in televisione? No. È uno youtuber. Ha un gemello? No. È soprannominato King? No. Assassin? Ha fatto una serie su... Ma lui porta... Boh, non lo so. Ha le tricce? Ah, è cala. No, guarda. Indossa spesso un cappello? No. Ha una fidanzata italiana? Sì. Ha i capelli lunghi? No. Ha la barba? No, diciamo di no. È mai stato finanzato con una youtuber? Lui, no. È interista? Non lo so, ma non credo. Fa parte del clan dei gods? No. Gods Ron. Che senso... Ha a che fare con Glacera? Lui non lo porta, ma ci gioca. E... Boh... Facciamo no, perché comunque non lo porta, però. Ha a che fare con il rock... Ah, guarda. Ha un fratello e una sorella? Non lo so, ma non credo. Fa parte? Allora, è un... Oh, so io, ma... No! È romanista? No. Ha mai fatto una challenge? Sì, di calcio, però l'ha fatta. Si è ritirato dal mondo del calcio? No. Ma anche perché non ha mai giocato. È nato in Toscana, non lo so. Chi è? Ah... Certo, non è la foto migliore, ma... Just Ron. Ok, facciamone un altro. Gabbo di Squared. Gabbo di Squared! Il suo personaggio è scoperto... Eh sì, certo. Che sennò penso che ne chi lo conosce. Ha a che fare... Certo. Ha vissuto atto... Che cashpite ne so. No, ho messo sì. Che idiota. È allergico ai pomodori. Ma secondo te, lui nei video dice... Allora, è allergico ai pomodori. Allora, il suo progetto fa giochi horror. No. Fa parte dei miei... No, 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 no. Ha a che fare con Fabi J? No, Gabbo no. Grazie a me... No, non ha mai portato Minecraft nella sua esistente. Gira... È nato con il soprannome di Johnny. No, quello è Johnny... E... No, no, no. No. È un tifoso della Roma? No. Dovrebbe... Ha a che fare con lo slogo, sì? Il soprannome si è appena trasferito? No. È sexy? Non lo so. Hai baffi? Più o meno. Ma non so su che tipo di... Vabbè, sì. Svogo. Il soprannome ha a che fare con il cosiddetto svogo. Sì. Sì, ha un tatuaggio. Ha molti tatuaggi. Sì. Dovrebbe avere. Viva in provincia di Mo... Oh, questo ha capito. Ha capito, mi sa. Gabo di Squad! Ok. Adesso... Comunque, ragazzi, al referendum ho votato Trump. Comunque, ragazzi, al referendum ho votato Trump.